Anche due alcamesi sono stati arrestati nell'ambito dell'operazione Artemisia con la quale i carabinieri hanno scoperchiato un vasto giro di corruzione che faceva capo a una loggia massonica segreta. Si tratta del medico Rosario Orlando, 67 anni per diverso tempo, responsabile del centro medico legale dell'Inps, ex consigliere comunale e assessore democristiana ad Alcamo negli anni 80, e di Giovanna Ivana Diliberto, 32enne, operatrice sociale, componente e consulente dell'Inps nelle commissioni invalidità civili. Orlando è finito in carcere assieme ad altre 9 persone, mentre la Diliberto, assieme ad altre 16, è stata posta ai domiciliari. Misure interdittive e obbligo di dimora per altre 6. Tanti i nomi illustri finiti nell'operazione, accusati a vario titolo di corruzione, concussione, traffico di influenze illecite, peculato, truffa aggravata, falsità materiale, falsità ideologica, rivelazione ed utilizzazione del segreto d'ufficio, favoreggiamento personale, abuso d'ufficio ed associazione a delinquere segreta finalizzata di interferire con la pubblica amministrazione. Un avviso di garanzia è stato anche consegnato a Roberto Lagalla, ex rettore dell'Università di Palermo e attuale assessore regionale. Le indagini e gli arresti hanno colpito soprattutto Castelvetrano, cittadina, dove si ritorna alle urne il prossimo 28 aprile, dopo due anni di commissariamento per lo scioglimento del comune per mafia. E l'operazione Artemisia ha colpito anche le imminenti consultazioni elettorali. Agli arresti domiciliari è infatti finito Luciano Perricone, candidato sindaco in quota centrodestra. Fra i politici coinvolti e finiti ai domiciliari, anche l'ex sindaco Felice Errante, l'ex deputato regionale di Forza Italia ed ex presidente dell'ARS Francesco Cascio. In carcere è invece finito il castelvetranese Giovanni Losciuto, ex parlamentare regionale dell'MPA, poi avvicinatosi a Forza Italia, ritenuta la mente dell'organizzazione segreta. Stessa ordinanza anche per Paolo Genco, Deus ex macchina dell'ente di formazione ANFE, già finito in carcere nel gennaio 2017 per truffa e poi scarcerato dopo un paio di mesi. In carcere anche Gaspare Magro, Giuseppe Angileri, Isidoro Calcara, Salvatore Passanante, Salvatore Virgilio, Giuseppe Berlino e Salvatore Giacobbe. Ai domiciliari invece, oltre a Errante, Perricone, Cascio e l'alcamese di Liberto, anche Enzo Chiofalo, ex assessore a Casselvetrano e poi alla provincia regionale di Trapani. Le indagini dei carabinieri coordinati dalla procura di Trapani sono iniziate nel 2015 e hanno avuto come fulcro l'onorevole Giovanni Losciuto, deputato regionale fino al 2017, a carico del quale sono emersi gravi indizi sulla commissione di numerosi reati contro la pubblica amministrazione, il cui fine ultimo era costantemente quello di ampliare la sua base elettorale in vista delle varie elezioni. Losciuto avrebbe creato accordi con il medico alcamese Saro Orlando, che riusciva a concedere numerose pensioni di invalidità anche in assenza dei presupposti previsti dalla legge. Circa 70 sono i casi di pensioni di invalidità attualmente al vaglio degli inquirenti. Questa mattina la sede provinciale dell'Inps a Trapani è stata presidiata dai carabinieri che hanno controllato computer e documentazioni. In tutta la vicenda coinvolta anche la famiglia di un altro ex politico recentemente scomparso, Vito Licausi, ex sindaco di Casselvetrano ed ex parlamentare nazionale. La figlia Valentina ha infatti ricevuto la misura coercitiva dell'obbligo di dimora.